Salve a tutti, oggi andiamo a preparare una torta di cioccolato a fantasia. Ora andiamo a preparare la torta di uova intera, 300 grammi di zucchero diviso in due 150-150 grammi. La torta di uova intera, 200 grammi di zucchero diviso in due 150 grammi. Acqua 300 ml, 250 ml qua, 250 ml qua. Ora andiamo a preparare la torta di uova intera, 300 grammi di zucchero diviso in due 150 grammi di zucchero diviso in due 150 grammi di zucchero. 50 grammi di zucchero diviso in due 150 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 grammi 150 g di zucchero per 5 minuti. Dopo 5 minuti. Ora verso 50 ml di acqua. 1 ml di acqua. 1 cucchiai di girasole. 1 cucchiai di acqua. 1 cucchiai di latte. 1 cucchiai di acqua. 1 cucchiai di acqua. 2 cucchiai di acqua. 1 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 cucchiai di acqua. 2 cucchiai di acqua. Questo è tutto. Ora andiamo a infornare a 180 gradi per 20 minuti. Sirop, acqua e zucchero. 250 g di zucchero 250 ml di acqua Ora mettiamo 1 ml di acqua in acqua. Adesso lo lascio bollire. Ora lascio raffreddare per 10 minuti. Ora lo lascio raffreddare. Adesso torta fredda. Resta dopo 10 minuti con il sciroppo di zucchero acqua. Ora lo lascio raffreddare. Ora lascio raffreddare. 250 ml di acqua. 250 ml di acqua. Adesso aggiungiamo 1 ml di acqua di acqua di acqua di acqua. Cioccolato. Adesso aggiungiamo cibo. Choccolato, cibo e cibo. Choccolato, cibo e cibo. bianco cioccolato amaro cioccolato bianco facciamo sciogliere bene cioccolato bianco cioccolato sopra cioccolato bianco cioccolato bianco cioccolato bianco adesso andiamo mettere in frigo per tre ore dopo tre ore adesso pronto è torta e poi vediamo che vi cioccolato e poi cioccolato 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 ragazzate lontano caduccio pi acs Fatela anche voi in casa. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima video.